come cambiare lettera a un disco su windows ovviamente per cambiare lettera a un disco come puoi vedere cd e y quindi in questo caso tu vai direttamente sul logo start di windows qua sopra tasto destro sopra gestione disco aprirà così la schedina gestione disco ed eccola qua qui ci saranno tutti i tuoi dischi da qui puoi anche formattare il tuo disco quindi se vai sul volume della tua lettera volume y il mio tasto destro sopra cambia lettere percorso di unità y cambia assegna questa lettera di unità y io metto t di toni e faccio ok e faccio sì una volta fatto come puoi vedere volume con la lettera t tutto qua questo era quindi se questo video ti è stato utilissimo su come cambiare una lettera a un disco iscriviti lascia like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao